Mai così in alto da nove anni. La Carpegna Prosciutto Basket Pesaro vince 98-88 sulla Germani Brescia e conquista le Final 8 di Coppa Italia. Splendido successo la Vitrifrigo Arena che vale il sesto posto in classifica e che consente alla VL di andare tra un mese al Forum di Milano ad affrontare Sassari nei quarti di finali di Coppa Italia. Una grande soddisfazione perché da primo giorno il nostro raduno è stato un sogno raggiungere Final 8, non un obiettivo perché è salvezza per mille motivi, ma un sogno perché siamo riusciti durante l'estate a fare una squadra partendo dalle persone, da buoni giocatori, una buona squadra, una squadra che sta insieme bene, con una giusta chimica, che gioca bene, bel basket e per questo veramente una grande soddisfazione. Vorrei fare complimenti ragazzi per una vittoria stra importante e veramente stra difficile perché di nuovo abbiamo avuto stamattina un problema con la schiena, il nostro giocatore più importante è Carlos Delfino, ma complimenti al staff medico perché sono riusciti a metterlo a posto e ha giocato la partita. Vorrei dedicarla a questa vittoria, vorrei dedicare ai nostri tifosi perché lo so che hanno sofferto tutto questo periodo per non poter starci vicino, per sostenerci, ma speriamo arriveranno questi giorni quando potremo andare avanti insieme.